Grazie a tutti Grazie. 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 pochi video, qualche foto e soprattutto il biglietto di quella attraversata come un po' di tutte queste qui sono, in realtà sono tutti i biglietti dei treni che io ho annullato con questo intervento non so se avete presente le incisioni quando non si possono più usare si fa una linea quindi è un annullo, questo biglietto è fatto biglietti della tirrenia che ovviamente ho fatto anche la nave sono molto oscuro e biglietti dei bus di Torino per esempio in questo caso e niente, è questo se ne faccio un po' giovane per aver conosciuto è la Pani con cui andavo all'accademia nel 2003 nel 2004 e niente, quindi tutto qua in realtà un sogno di due anni così e ne mancano, eh e va bene, ma è sempre poco due anni è molto eh, due anni sì ma è molto bella in realtà Grazie a tutti.